Emozionata, orgogliosa, consapevole del grande lavoro svolto in questo mandato. Così si può riassumere il saluto del Tenente di Vascello, Ileana Di Donato, alla parterre di autorità civili e militari per la cerimonia di avvicendamento al comando del distaccamento marittimo di Fano. Gli succede un'altra donna, un'altrettanto emozionata, se non di più, Clara Iasella, pugliese, classe 1985. Una cerimonia formale e carica di significato, ha sottolineato il capitano di fregata Silvestro Giorgenti, capo compartimento marittimo provinciale e comandante del porto di Pesaro, volutamente pubblica, a sottolineare lo stretto legame con la città con la quale si vuole condividere e confrontarsi continuamente in un interscambio di collaborazione ed interventi tutti mirati alla salvaguardia del patrimonio marinaro della città, fonte di sviluppo, sostentamento e turismo dell'intera comunità. Consueva entrare in punta di piedi, ma già con la consapevolezza, l'ufficiale del corpo delle capinerie di porto, preparato e pronto per affrontare le nuove sfide che il comando impone. Due anni che lasceranno il segno, quelli della di Donato, dove la ricerca continua del rapporto di scambio e collaborazione costruttiva con le forze dell'ordine, tutte presenti con i massimi vertici locali, e le istituzioni, ne è testimonianza una giunta presente nella sua totalità, ma che lasceranno un segno anche nello stesso comandante uscente. Sono stati due anni eccezionali, sono stati due anni in cui ci siamo dedicati tanto al territorio, le testimonianze di affetto di oggi mi fanno davvero piacere, perché vuol dire che il territorio ha sentito questo affetto, questa voglia di lasciare un segno comunque in questa città che è meravigliosa. Io non posso che ringraziare i miei uomini, siamo pochi, ma siamo veramente affezionati, e quindi vado via con il dispiacere di salutarvi, che è un arrivederci sicuramente, e con l'emozione anche io di iniziare un nuovo incarico che mi attende nella direzione marittima di Ravenna, ma soprattutto con il dispiacere di salutare persone importanti che hanno fatto parte e faranno parte per sempre della mia vita, che comunque conserverò nel mio cuore con tanto affetto davvero. Continuerò nel solco tracciato dal mio predecessore, per dare sempre maggior impulso e continuità al percorso intrapreso, ha esordito dopo i convenevoli saluti di Rito, il nuovo comandante della Capitaneria del Porto di Fano, che quasi lacrime agli occhi ha ringraziato la famiglia ed il marito, ugualmente ufficiale della Marina, per il sostegno che l'ha portata ad arrivare sin qui. Il nostro ruolo è molto importante per garantire che tutte queste attività portuali, economiche ma anche di portistiche, si sviluppino soprattutto in sicurezza e nel rispetto di quelle che sono le regole imposte a livello legislativo. Tuttavia non c'è solo l'aspetto del controllo, ma ci sarà anche da parte mia un impegno, come preannunciavo durante la cerimonia, ad ascoltare gli operatori portuali per trovare soluzioni condivise per quelle che potranno essere le problematiche che si presentano.